Ottavio De Stefano Magic Christmas Ottavio De Stefano Ottavio De Stefano Facciamo più il pop, facciamo più il commerciale Io alla fine ho cercato di testare e di capire quale fosse la mia strada Ma alla fine quella che mi sento mia è questa strada, lo swing del jazz, dell'essere crooner Che poi in Italia possa andare o non andare, questo dipende semplicemente da un percorso storico Perché le cose come ben possiamo immaginare tornano, vanno via, ritornano Un po' come la moda dei vestiti, degli occhiali E quindi sono convinto che la cosa che mi sento dentro è la cosa giusta E quindi continuo a fare il mio percorso e perseguire la mia strada Tanto la musica non ha confini Una presentazione di un album che è già su tutti i digital store Sta andando benissimo, grandi ascolti su Spotify Grandi feedback da parte dei tuoi fan Ma ci hai tenuto anche a realizzare un supporto fisico di questo CD Allora sono uscito prima su Spotify, siamo usciti prima su Spotify, su iTunes e su tutti i supporti digitali Proprio per permettere a chi magari da più lontano non avesse subito la possibilità di acquistarlo fisicamente il CD Ora a partire dal 6 dicembre sarà disponibile anche fisicamente Infatti lo presenterò proprio qui a Foggia al Teatro della Polvere Insieme a una grande rassegna stampa con tutte le televisioni e le radio regionali e nazionali Però è una cosa bella perché per la prima volta ho potuto apprezzare i social Abbiamo detto ok, mettiamo prima su Spotify, su iTunes, vediamo cosa succede Vediamo il feedback da parte del pubblico E questo mi ha fatto molto piacere perché abbiamo riscontrato grande successo, grande movimento E quindi ne vado orgoglioso anche di questo fatto